Capo online punto com il quotidiano di informazione della provincia di Caserta e non solo buonasera da Antonio De Rosa questo pomeriggio siamo a Sant'Angelo Informis in provincia di Caserta abbiamo scelto un altro posto bellissimo perché siamo proprio qui all'esterno della Basilica Benedettina di Sant'Angelo Informis questo pomeriggio un altro ospite qui alla mia destra che si sottoporrà alle nostre domande alla nostra intervista sto parlando del consigliere comunale ormai con il quarto mandato per quanto riguarda il centro-destra Melina Ragozzino benvenuta su Capo online come stai? Tutto bene grazie grazie a voi per l'invito e per l'interessamento alla città di Capo Tu sei sempre presente per quanto riguarda i vari eventi non solo ricordiamo il tuo impegno interminabile ormai quarto mandato complimenti mi verrebbe da dire Esattamente complimenti ai miei concittadini che ogni volta mi danno la fiducia nel rappresentarli appunto nel consenso comunale di Capo Allora Melina non abbiamo le cosiddette fatidiche domande da porgerti la prima è questa tu sei consigliere comunale in carica di lungo corso da ben quattro consigliature lo ricordavo prima il ricordo più bello tuo qual è? Sicuramente è stato indossare la fascia di sindaco la fascia di colore che appunto impreziosiva un po' quel ruolo istituzionale che sia come delegato amministrativo della frazione e dietro quell'evento ovviamente il susseguirsi di diversi altri episodi e di altre attività che facevamo poi su Sant'Angelo Informis perché mi occupavo principalmente della frazione e spesso e volentieri appunto da qui dalla basilica splendida che abbiamo nel nostro paese partivamo con le processioni insieme a tutta la mia comunità che mi ha sempre dato grande soddisfazione che è stata con me sempre presente in tantissime attività quindi sicuramente il ricordo più bello è poter indossare quella fascia spesso e volentieri ho anche fatto promesse di matrimonio quindi insieme con l'attività voglio dire giornaliera c'era quella lì poi amministrativa burocratica che però regalava momenti di grande felicità facendo appunto anche matrimonio all'interno della sala comunale proprio del palazzo principale ti sceglievano per il tuo impegno ma anche diciamo per la tua cura dal punto di vista estetico mi avrebbe da dire perché qualcuno addirittura ti aveva etichettato come personaggio speciale del comune di Capua questa è una cosa della nostra redazione non so se è vero mi auguro di sì ci facciamo anche qualche risata visto per sdrammatizzare un po' permettimi Melina certamente no diciamo che la redazione con me ha avuto sempre un rapporto anche divertente perché sono stata anche diciamo tra virgolette vittima di qualche scherzo ironico ma sicuramente speciale veramente perché si è un gruppo che appunto si dà da fare e cerca di essere di lavorare con obiettività sul territorio ti ringraziamo Melina passiamo alla seconda domanda cosa questa amministrazione avrebbe realmente potuto fare e non ha fatto allora diciamo che le aspettative quando è stato eletto appunto il sindaco Luca Branco potevano avvenire e potevano rendersi utili anche da parte nostra cioè nel senso che la campagna elettorale è stata tutta incentivata sulla parola spettacolare è come se appunto si conoscesse bene la città si conoscesse bene la problematica che riguardava appunto le finanze del comune che spesso e volentieri diventano una giustificazione alle tante cose che non vengono fatte allora quando si fa una campagna elettorale così diciamo incisiva così piena di entusiasmo nel dire che si farà quello che altri non hanno fatto ci si aspetta poi che venga fatto almeno il minimo invece mi rendo conto che questa amministrazione purtroppo è la seconda del centro-sinistra ed è la seconda che non ha fatto anzi fa sembrare spettacolare anche l'ordinaria attività quindi riparare una semplice buca che in realtà non viene riparata da settimane e poi quando viene fatto sembra qualcosa di eccezionale tagliare l'erba che rientra in un piano in una programmazione sembra al tetano attività eccezionale sicuramente anche nel mio periodo ci sono state delle difficoltà quindi non voglio nascondere questo però in questa amministrazione manca completamente quello che è la differenza tra l'essere al servizio del cittadino e l'essere invece poco presenti per la città però Melina tu hai parlato di un argomento importante perché lo ripeto ancora una volta l'ho fatto anche nelle precedenti interviste non solo con te perché rappresenti l'opposizione dell'amministrazione branco ma ne parlavo anche con i consiglieri comunali della maggioranza ci arrivano tante email in redazione dei cittadini di Capo ma anche della tua città Sant'Angelo Informis che purtroppo il manto stradale continua a dare problemi ci sono persone che addirittura sono rimasti bloccati all'interno delle buche o meno addirittura qualcuno ha avuto anche lo scoppio di un pneumatico questa è una cosa pericolosissima penso che i nostri cari concittadini questo lo sanno benissimo non a caso l'hanno segnalato tu l'hai detto magari sollecitiamo ancora una volta l'amministrazione di Luca affinché possa provvedere a questo enorme fastidio che dà purtroppo il manto stradale sì obiettivamente io ho fatto un abbonamento dal gommista perché ho bucato due volte però al di là di questo che appunto percorro le strade e anche quando c'è pioggia magari posso sapere dove si trova più o meno una grande buca chi non pratica quotidianamente le strade non può neanche sapere dov'è quell'enorme buca quindi il problema diventa veramente serio quindi al di là dello scherzo mi preme voler sollecitare ancora una volta che anche quando il manto stradale salta i sassi praticamente hanno distrutto vetrine sono andati a finire sulle persone si è creato bricciolame sul quale si scivolava cioè c'è un disagio veramente molto forte e questo avviene purtroppo in tantissime strade cittadini in alcune ho visto addirittura dover mettere delle sedie per evidenziare che c'è una buca quindi il problema non è soltanto riparare la buca è proprio la presenza dell'amministrazione nell'attività di controllo di gestione di messa in sicurezza delle strade cittadine e poi penso che Melina avrai sentito parlare sicuramente fino a qualche tempo fa nella città di Capo non so se qui a Sant'Angelo Informis si è verificato spero di no c'è stato qualcuno che lamentava addirittura il furto dei chiusini sulle fognature è una cosa abominevole io direi sì è un problema che c'è sempre stato noi abbiamo via Casa Cerere che spesso e volentieri era oggetto di questi furti dei chiusini qualche volta è capitato anche al cimitero perché fatti in ghise e quindi approvvigionavano qualche poco di denaro a qualche persona ovviamente di cui non voglio dare un nomignolo o un nome però è ovvio che è un atto vandalico che non va fatto e forse la videosorveglianza a questo darebbe una grande forza per evitare che il problema si ripercuota e si verifichi costantemente si ripercuota sulle casse comunali perché poi il chiusino in ghisa ha un costo e la messina opera altrettanto nonostante un lungo elenco di critiche da parte della tua compagine politica c'è da dire che nel 2016 tu hai perso al primo turno e nel 2018 dopo che il centro-sinistra ha mandato a casa cento ore avete nuovamente perso praticamente mi verrebbe da dire un disastro ma qual è la ragione di questa doppia sconfitta o a dirla con una battuta nessuno ha amministrato peggio di voi ovviamente sei ironico al massimo perché voglio dire quello che è stato fatto dall'amministrazione di cui mi pregio di aver fatto parte è visibile sotto gli occhi di tutti noi abbiamo realizzato i marciapiedi a standaggio abbiamo fatto l'allargamento del passaggio a livello abbiamo realizzato una piazzetta giù al quadrivi abbiamo fatto il secondo e il terzo lotto dell'asilo nido abbiamo inaugurato la prima pietra nel campo sportivo l'abbiamo per buona parte completato io stesso mi sono preoccupata di rimettere in sesso tutta la scuola materna di Sant'Angelo con tutte le misure di sicurezza con tutti gli impianti nuovi facendola tinteggiare facendola copertura cioè voglio dire potrei parlare adesso e finire tra diverse ore su quello che abbiamo fatto a Sant'Angelo in Formis e a Capua piazze marciapiedi rioni illuminazioni ovviamente dieci anni di amministrazione non tutti e dieci sono stati più floridi perché le difficoltà c'erano sempre quindi nascondersi dietro alle difficoltà anche oggi è tra virgolette ingiusto perché anche io quando ho amministrato il mio gruppo ho amministrato ognuno nel proprio settore aveva diverse difficoltà e nonostante tutto riusciva a dare comunque un piccolo segnale noi per esempio che a Sant'Angelo non abbiamo un parco giochi a Capua abbiamo realizzato un bellissimo parco giochi a Sant'Angelo dove abbiamo realizzato una piazza abbiamo messo un'altalena e una giostrina poca cosa per carità ma comunque un piccolo punto di ritrovo oggi a distanza di un anno che le giostrine sono state comprate tramite una raccolta fondi da parte di un'associazione che è la Proloco di Sant'Angelo Informis con contributi dei cittadini l'amministrazione comunale nonostante una mia interrogazione insieme con il mio gruppo nonostante una nostra mozione firmata appunto dal sempre dal gruppo dove tutti hanno votato a favore di una priorità che era quella di installare queste giostrine ad oggi a un anno da allora ancora nulla è stato fatto quindi parlare di una sconfitta no perché due volte eletta due volte si il candidato sindaco non ce l'ha fatta ma Angelo Di Rienzo tra l'altro è arrivato diciamo un po' all'ultimo minuto come lo stesso Luca che non era proprio nelle liste scusami c'è stato un testa a testa anche nel ballottaggio ricordiamo perché non si era conclusa al primo turno ma al ballottaggio e quindi la differenza è stata di pochissimo diciamo sì la differenza è stata di pochissimo perché ti diceva anche Luca non era in quelle che erano le liste o le chiacchiere della politica che si organizzava ai tavoli per decidere il sindaco fatto sta che io vedo due vittorie perché purtroppo Centore è dovuto si è dovuto dimettere perché non è stato in grado di reggere il carico la mole di lavoro da fare e comunque lui stesso ha poi deciso di dimettersi invece di farsi mandare a casa dai propri consiglieri oggi il sindaco Branco paga lo stesso scotto di allora perché probabilmente non è adeguato al ruolo che ricopre non riesce a gestire la città non riesce a gestire una maggioranza che non ha più bene mentre camminiamo qui sulla Basilica Benedettina di Sant'Angelo in Formis noi della redazione di Capo Online siamo venuti qui perché continua il nostro tour di domande alla nostra Melina Ragozzino consigliere comunale per quanto riguarda la minoranza e quindi l'opposizione dell'amministrazione Luca Branco del comune di Capo in provincia di Caserta Melina tu saresti pronta a collaborare con questa amministrazione per il bene della città sicuramente per il bene della città bisogna essere sempre pronti a fare tutto ma nel momento in cui non si è in grado neanche di installare delle giostrine per i bambini a distanza di un anno non so quanto potrebbe giovare alla città un governo di salute pubblica dove in realtà chi veramente tiene la salute pubblica della città non sono le persone che attualmente sono presenti sul comune di Capo e ci stanno amministrando quindi a questa domanda vorrei quella di riserva perfetto allora quale sarebbe in tal caso un problema che potrebbe essere risolto subito ma di problematiche ce ne sono tantissime secondo me sarebbe molto importante rendere la città vivibile quindi la problematica del ponte che sicuramente vede un iter lungo andrebbe incentivata con una task force la problematica della viabilità ha lo stesso problema e lo stesso percorso dovrebbe seguire così come pure quella dei rifiuti non è possibile pagare per un servizio che è completamente assente che invece vedeva nella vecchia amministrazione una percentuale differenziata molto altra il togliere i cassonetti liberare l'ex zuccherificio da ecoballe installare fotovoltaico cioè la delega ai rifiuti come l'assessorato voglio dire ai rifiuti non è un assessorato ai rifiuti è un assessorato all'ambiente oggi manca proprio l'attenzione all'ambiente manca l'attenzione un po' a tutto quindi sicuramente mi impegnerei sulle prime tre cose e tra l'altro voglio dire il cimitero che è completamente abbandonato le scuole e la programmazione scolastica che chi più ne ha chi ne metta ha versioni diverse e sicuramente tutti teniamo alla sicurezza dei nostri ragazzi però le problematiche sono talmente tante che si abbandona anche quella che è lo sport quindi rimane così attaccata ad un filo l'agisac rimane così sospeso il regolamento per le strutture sportive insomma le problematiche sono davvero così tante che io non saprei dirti da dove iniziare sicuramente io farei una programmazione con una squadra forte cercando non soltanto il volontariato perché non va fatta confusione tra le persone che vogliono aiutare la città ad essere più pulita più sostenibile più vivibile ma mi confronterai soprattutto con specialisti del settore affinché si possa risolvere una problematica in tempi brevi in modo concreto tra l'altro lo ricordavamo Sant'Angelo Informis specialmente il luogo che vedete qui alle nostre spalle tra poco il nostro caro Salvatore il nostro operatore di ripresa ci darà anche uno scorcio di quello che il panorama visto dall'alto della città di Sant'Angelo Informis con il sorriso di Melina che naturalmente tu giochi in casa però l'hai detto prima sei stata impegnata e continui ad essere impegnata qui a Sant'Angelo Informis ma anche per Capua una cosa importantissima la dobbiamo dire nonostante siamo in periodo dell'emergenza sanitaria che purtroppo ha colpito tutte dalle scuole agli operatori dello spettacolo alla politica secondo te quale sarebbe il consiglio magari o un tuo modo particolare di vedere questa situazione e soprattutto cosa bisognerebbe fare per poterla migliorare ovviamente con la collaborazione di tutti noi io credo che la prima cosa da fare è portare rispetto ai cittadini non si può chiudere un cimitero senza neanche fare un avviso non si può lasciare le buche senza metterle in sicurezza non si può far finta di non governare questa città ma poi dire di farlo c'è una contraddizione troppo grande tra quello che è questa superficialità questa assenza visibile tangibile sul territorio e quello che viene detto che si sta facendo quindi io ho fatto dieci anni la delegata amministrativa da sola ho fatto insieme con quello cinque anni il presidente del consiglio comunale la mole di lavoro era tantissima si può non dare in tanti settori ma in qualche settore almeno bisogna dare delle risposte oggi questo a capo non avviene permettimi di fare ovviamente chiedo anche perdona alle amici che ci seguono da casa quando sei in consiglio comunale magari ecco ricopri la carica di presidente non è facile perché come se fosse perdonami il termine un'arena dal punto di vista ovviamente virtuale e umoristico si ricordo che ovviamente qualcuno mi chiamava Mussolini il buon Nazzaro mi diceva sembri Mussolini dai sopra i banchi che dà quell'attimo di altezzosità quella rigidità ma in realtà è un ruolo che bisogna anche assumersi cioè chi quando va al lavoro non assume un ruolo per far sì che la sua azienda possa dare la maggiore e la migliore forma possibile ma la maggiore prestazione possibile ritengo che in questo momento capo abbia bisogno di chi veramente la tenga a cuore io ho praticato molto Santa Maria per gli istituti scolastici ho vissuto capo soprattutto per l'attività politica e sono innamorata della città sono innamorata del mio paese e ci tengo che ci sia una piccola svolta noi non vogliamo grandissime svolte ma se non c'è una programmazione ordinaria dell'attività come possiamo pensare di fare programmazioni più importanti attingendo ai fondi europei a quello che saranno gli stanziamenti del recovery fund resteremo comunque appesi ad un filo dove non sapremo neanche quello che l'amministrazione sta facendo perché alla fine non veniamo minimamente coinvolti anche perché il nostro ruolo è ben altro noi possiamo rispondere ai cittadini possiamo interrogare l'amministrazione fare pressione perché qualcosa venga fatto ma non tocca a noi governare perché non siamo noi che abbiamo vinto le elezioni come tu mi dicevi ma noi abbiamo vinto dal punto di vista morale perché la città c'è molto vicina rendendosi conto che purtroppo la scelta fatta la scorsa volta non è stata nelle migliori cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi di maggioranza mi sento di dire che è giusto sì opporsi è giusto il colloquio democratico è giusto confrontarsi ma bisogna adesso mettere un punto perché anche un bambino impara a camminare a parlare dopo quasi due anni la città è stanca è martoriata anche il covid ha distrutto le attività commerciali mettendoli in ginocchio noi avevamo chiesto una semplice dimostrazione di solidarietà cedendo le indennità questo in tempi non sospetti perché era arrivata una pandemia enorme anche a quello fu risposto di no per dare un piccolo contributo alle attività commerciali perché io ritengo che chi lavora debba essere pagato ma chi non lavora ovviamente può anche non esserlo voglio dire in questo caso non è tanto la questione di chi lavorava e chi no ma di fare un atto di solidarietà nei confronti delle attività commerciali anche quello praticamente non fu fatto oggi c'è questo scontro per ridividere e ridistribuire le deleghe sono sicura che con questa mozione di sfiducia che è un atto molto forte molto grave nei confronti dell'attività amministrativa della scelta che è stata fatta sono sicura che bisognerà mettere un punto cioè non si può continuare ad aspettare che questo gruppo di persone di cittadini di capo che dovrebbero passeggiare per le strade di capo confrontarsi con i cittadini decidono che cosa è arrivato il momento di fare da grandi allora Merino noi raggiungiamo qui l'ultimo punto estremo dove appunto Salvatore ci ricalerà queste immagini bellissime del panorama della Basilica Benedettina e guardiamo qui davanti ai nostri occhi questo panorama splendido delle città tra capo Sant'Angelo Informis Santa Maria io ne approfitto per concludere la nostra intervista chiedendoti una cosa importantissima qual è il tuo desiderio il desiderio di Medina Ragozzino ma il mio desiderio è quello di vedere giù le cosiddette asce e di vederci tutti insieme per un fine comune in fin dei conti abitiamo tutti quanti qui tutti i giorni dobbiamo praticare le scuole passare per le strade camminare sui marciapiedi fare una a spendere per le nostre attività quindi se insieme riusciamo a fare qualcosa per la città mi troveranno sempre schierata per chi vuole fare il mio desiderio è che finalmente capo possa risorgere possa avere quella dignità che in questi anni in questi tempi è stata un po' tolta perché appunto come ti dicevo prima sono cinque anni che comunque c'è il centro-sinistra e al di là del centro-destra e il centro-sinistra si sbaglia ci si corregge si va avanti ma oggi siamo in grandi difficoltà siamo molto giù anche moralmente e quindi il mio desiderio è che presto posso uscire con mio figlio con la mia famiglia condividere i momenti con la città senza le mascherine ma è una città pulita vivibile e piena di fiori ce l'auguriamo tutti quanti noi io ti ringrazio Melina per esserti sottoposta alle nostre domande alla nostra telecamera qui su capo online punto com un tuo saluto e soprattutto un tuo consiglio per i cittadini di Capua ma anche di Sant'Angelo Informis della tua città allora un saluto grande a tutti che state affrontando questa difficoltà da tutti i punti di vista economica sociale e soprattutto di salute ma non vi arrendete perché gli italiani ce l'hanno sempre fatta hanno sempre saputo dimostrare quanto valgono così come i cittadini di Capua e Sant'Angelo Informis non si devono abituare al degrado non si devono abituare all'abbandono perché devono combattere per quello in cui credono Sant'Angelo Informis Caserta Antonio De Rosa Melina Ragozzino grazie al nostro operatore di ripresa Salvatore Carbone ci vediamo alla prossima sempre qui su Capo Online Grazie a tutti